Secondo me sono veramente... ...a spegnere la luce lì, ma abbiamo chiamato il comune, magari la fosco. Una festa proprio, i cazzi. Tra qua, tutta la gente peggiappettosa. Molto che il palco del mezzo qua. Settimana prossima lo facciamo così. Qua però le cazzi. Eh, però inizia anche ora alle...